Che siamo fuori di testa era noto, che siamo diversi da loro anche, ma siamo quasi puntuali. Mi dicono che a Roma si fissa mezz'ora prima. Oh, non iniziate subito che abbiamo già fatto un favore a entrambe le squadre romane lunedì perdendo con la Sampdoria come atto di omaggio a Fepossino, soprattutto qualcuno in prima fila. Allora, intanto è bellissimo, non vedo nulla perché ho le luci, ma è bellissimo sapere che siamo in tanti. È bellissimo sapere che stiamo cercando di ripartire non soltanto con le iniziative dal vivo, ma che stiamo cercando di fare una cosa che gli altri hanno paura a fare. Cioè di dire la verità con il sorriso sulle labbra a tutti quelli che ci dicono che dovete stare zitti e buoni, diciamo che noi zitti e buoni non ci stiamo. E nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, gireremo l'Italia, non soltanto parlando di sto benedetto libro, parleremo anche del libro, ma anche e soprattutto raccontando quali sono le nostre idee per il futuro. Perché, piaccia o non piaccia, io sono convinto che il futuro ci appartenga molto più di quello che ci raccontano. Tutto ciò che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi, dalla guerra in Ucraina alla vicenda del post-Covid, a tutto ciò che ha a che vedere con le dinamiche geopolitiche, gli equilibri internazionali, il mondo che cambia, è un qualcosa che porterà a restituire fiducia e importanza al nostro ruolo. Cioè Matteo, ma come fai a dirlo? Non ti crede nessuno, abbiamo dei dati, dei sondaggi bassissimi. Io voglio dire a tutti quelli che dicono che noi abbiamo i sondaggi bassi, mettano in piedi loro iniziative come quelle che mettiamo in piedi noi, siano capaci loro di fare la differenza sui contenuti come la facciamo noi, siano in grado loro di essere forti e coraggiosi al punto che se c'è da cambiare un Presidente del Consiglio incapace come Giuseppe Conte, si cambia e si manda a casa. E visto che siamo forti e coraggiosi, partiamo dal dato di... Intanto abbassiamo queste luci, per piacere, ho proprio una roba che mi sembra di vedere dei cinghiali a Roma, mi sembra... ah no, questo... No, tra l'altro la Raggi è meravigliosa, eh. Ho visto che la Raggi dice che lei non vuole il termovalorizzatore. Che è bellissima sta roba. Perché la Raggi che non vuole il termovalorizzatore è come quel bambino che fa casino in camera, lascia un disastro, tutto in disordine, e poi dice guai a chi mette a posto. Ha lasciato Roma in una condizione che è indecente. Ha lasciato Roma in una condizione che è vergognosa. Gualtieri, che pure noi non abbiamo votato, ma che abbiamo votato a ballottaggio, ha detto una cosa di principio, di buonsenso, di intelligenza, ha detto facciamo un termovalorizzatore. Non mandiamo i rifiuti a bruciare in Emilia o addirittura all'estero. Portiamo finalmente l'esperienza del termovalorizzatore che funziona in tutto il mondo per permettere che i rifiuti diventino un'opportunità e la Raggi e il Movimento 5 Stelle hanno detto di no. Allora iniziamo a dire, prima di parlare delle alleanze, con chi stiamo sui contenuti, con chi vuole pulire Roma o con chi la vuole continuare a sporcare. Il Movimento 5 Stelle non può continuare a dettare legge in una città in cui i danni ne ha già fatti abbastanza. E quindi, partendo da questo presupposto, sul termovalorizzatore ce la giocheremo nelle prossime settimane. Dicevo, che cosa stiamo a presentare oggi? Tra l'altro lo faremo testando un format, ovviamente abbiamo preparato a lungo, tanto luce oride in prima fila, inaccettabile questa risata francamente, ma il libro di cui stiamo, tra l'altro io continuo a non vedervi, se fosse possibile leggere così, visto che facciamo gli incontri dal vivo, se fosse possibile far vedere un po' la platea, nel senso che io, mi ricordo a quella pubblicità, potevamo stupirvi con effetti speciali. Dicevo, il libro di che cosa parla? Il libro parla del mostro, che sarei io. Perché io sono diventato un mostro, in parte ci ho messo del mio, e in parte però me ne hanno fatte di ogni colore, di diversi colori. Guardate che è fantastica. Io le ho messe in fila, dopo che ho finito di leggere il libro, mi sono domandato, ma davvero è successo tutto questo? Perché non ci credevo. Ho scritto il libro, l'ho riletto, ho fatto il riassunto, e ho detto, chi è questo sfigato che ha avuto tutte queste robe in fila? Ed ero io. Non so se c'hai, Franco, il sommario, perché vorrei parlare il meno possibile del libro, ma prendere spunto dal libro per ragionare delle questioni del futuro. Il sommario, che è l'ultima pagina del libro, così abituiamo la regia a organizzarsi, la pagina dove ci sono quei 14 capitoletti, vediamo se riusciamo a pubblicarla, da qui alla prossima tappa di Firenze riusciremo a trovare anche l'immagine del sommario. Il sommario porta sostanzialmente a indicare tre grandi elementi. Il primo riguarda la magistratura e riguarda dei singoli magistrati. La differenza rispetto a tutti gli altri è che noi andiamo nelle aule di tribunale. Quando ci hanno interrogato, io ho detto, vengo. Avevo il discorso da fare in Parlamento perché c'era Draghi in aula, mi hanno fissato per l'appunto. Ho fatto in modo da far coincidere le due cose. Sono andato prima in tribunale di corsa, senza citare il legittimo impedimento, e poi sono venuto di corsa a Roma per intervenire in Senato. E però nell'andare in tribunale noi diciamo una cosa chiara. Ci vogliamo difendere nel processo, con tutte le carte che fanno gli avvocati. E vogliamo andare all'attacco, giocare all'attacco, e raccontare che cosa invece hanno fatto i magistrati contro di noi. Perché io sono per i magistrati. Questo è un paese nel quale tutti i santi giorni bisogna dire grazie alle straordinarie donne e uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della magistratura, che svolgono bene il loro lavoro. E guai a chi spara nel mucchio. Ma quando hai un magistrato, in questo caso tre magistrati, che io cito con nome e cognome, Creazzo, Nastasi e Turco, perché non ho paura di niente e di nessuno. Se applaudite i tre magistrati, non so se applaudite il fatto che io li citi per nome, o se state applaudendo loro. Nel secondo caso siete sospetti. Ma il concetto è che queste tre persone hanno fatto alcuni atti. E nel libro poi riporto gli atti. Non è che mi metto a fare chissà quali considerazioni. Nel libro del mostro non troverete nessuna considerazione particolarmente lungimirante e geniale di Matteo Renzi. Dei documenti, degli atti, dei fatti. Ve ne racconto un paio, così, tra amici. Il procuratore capo della Repubblica di Firenze, lo stesso che decide l'arresto dei miei genitori, dopo un colloquio con Luca Palamara, c'è scritto il ristorante, dov'era, in che via, quando si incamminano a piedi e iniziano a parlare, in quel caso era vacante casualmente la procura di Roma, Creazzo auspicava di poter essere indicato come procuratore della Repubblica di Roma e Palamara aveva fatto altre scelte, perché poi hanno dato tutta la colpa a Palamara, ma c'era un sistema che a noi non è che ci possono raccontare le barzellette, io ero lì. Io so come sono andate le cose, ero Presidente del Consiglio, non partecipavo alle cene, ma lo so che le cene le facevano tutti, tutti, tutti. l'attuale Vicepresidente del CSM, l'attuale Presidente del Senato, magistrati di ogni colore andavano a fare le cene, non c'era niente di male, ma hanno deciso che soltanto Palamara era il colpevole di questo sistema. Bene, in quell'incontro Creazzo e Palamara parlano di una serie di cose, e di lì a qualche giorno, casualmente, viene firmata un provvedimento d'arresto e sono giorni molto intensi nell'attività della Procura, perché l'arresto dei miei genitori per un reato talmente bagatellare che il Tribunale del Riesame immediatamente dice no, basta l'interdizione. Apro e chiudo una parentesi perché io voglio prenderla sul ridere, scherzare e divertirmi con voi. avessero detto dell'interdizione a mio padre e mia madre che dal primo giorno io avrei firmato subito a favore, perché non è un problema legato dunque a una bandierina personale. Figuriamoci, se volevano interdirli, firmavo anch'io, non avrei mai e poi mai fatto ricorso. Il punto però fondamentale che c'è in questa vicenda è che nelle stesse ore, nelle stessi giorni, nelle stesse settimane, quello stesso Procuratore Capo che fa un provvedimento così visibile, così importante, così mediatico, riceve una letterina di un ufficiale dei Carabinieri. Questo ufficiale dei Carabinieri si chiama Ciccarelli, è il comandante della stazione di Scarperia. A Scarperia c'è un signore che sta picchiando la moglie. È un dato che mediaticamente non fa lo stesso effetto dell'arresto dei genitori dell'ex Premier. Ma questo Ciccarelli scrive e dice guardate che questo signore potrebbe fare del male alla moglie, alla figlia di sette anni e al figlio di cinque mesi. Arrestatelo. La Procura riceve la richiesta di arresto e non fa niente. È troppo impegnata ad arrestare due settantenni incensurati per un presunto reato di bancarotta fraudolenta di una cooperativa collegata che avrebbe fatto due fatture false di qualche decina di migliaia di euro. Questa persona non viene arrestata. La Procura, guidata da Giuseppe Creazzo, nome e cognome, decide di non intervenire ad affare cose ben più visibili. E questo signore uccide il bambino di cinque mesi. Allora, voi capite che il problema non è l'arresto dei miei genitori. Ovviamente fa male, dispiace, sono tutte cose, non voglio farla semplice, sono cose che feriscono. Ma il dramma della mala giustizia è che quando qualche anno dopo, esattamente due mesi fa, la Corte Europea ha condannato l'Italia perché non ha difeso quella signora che qualcuno di noi conosce, vale a dire la madre del bambino che è stata anche lei ferita, peraltro, e quel bambino è stato ucciso, il piccolo Michele, quando Strasburgo ha sanzionato l'Italia, la Repubblica Italiana è costretta a pagare al netto di quello che paga di risarcimento che è secondario, arrivo a dire. Ma perché la Repubblica Italiana paga? Per colpa del carabiniere? No, i carabinieri hanno fatto bene il loro lavoro. Per colpa di dei magistrati che non fanno bene il loro lavoro, impegnati a fare altre cose. È la stessa vicenda che riguarda lo stesso procuratore che interviene nella notte a margine di un evento dell'Assemblea Nazionale Magistrati, ANM, e palpeggia, utilizzo le parole virgolettate, dei verbali, una collega. Non sarebbe venuto fuori niente se non fosse che questa collega, non sapendo cosa fare, prende e chiama Palamara, che allora era una sorta di manni tuttofare. Niente si sarebbe saputo di questa dinamica di molestia sessuale se non fosse che a un certo punto, quando viene preso il telefonino, anche qui, situazione da leggere, al dottor Palamara viene fuori un messaggino di questa signora, di questo magistrato, che dice mi raccomando il porco, non lo promuovete. Il porco sarebbe, secondo lei, il procuratore capo della Repubblica perché l'ha molestata. Ve la faccio breve. Il CSM decide di istruire una pratica, tutti i documenti, nel libro ci sono tutti i documenti, non è che c'è il gossip, documenti. E in questa pratica, alla fine di questa pratica, che cosa succede? viene riconosciuto colpevole. La magistrata non denuncia penalmente, perché tanto aveva fatto già la telefonata al dottor Palamara, e quindi la cosa si era messa a tacere in un altro modo, e che cosa accade? Viene combinata una sanzione. Ora, se voi uscite dallo stadio di Empoli, siete un cittadino normale, e toccate il sedere a una giornalista, fate una cosa vergognosa. Ok? Che non si deve fare, che va condannata con forza. Però rischiate sei anni di carcere. Quel tifoso che uscendo ha dato quel gesto inqualificabile, d'acrificare, vergognoso, quello che vuole fare, sei anni di carcere. Il magistrato che nella notte, a margine di un evento dell'ANM, mette al muro e palpeggia una collega, cercando, dice il verbale, di aprirle la bocca con la lingua, tutta una cosa che insomma, alla fine si può leggere soltanto in orario fascia non protetta, prende una sanzione, sapete di quanto? La riduzione di due mesi dell'età pensionabile. Vedete che il problema diventa due pesi e due misure. E finché lo fanno con i cittadini normali va tutto bene. Poi trovano quel pazzo che non sta zitto e buono e che dice sapete che c'è? Questa cosa deve cambiare non per me. Io mi difendo da solo perché la dinamica di Open è una barzelletta. La dinamica di Open non esiste. Hanno cercato di criminalizzare la Leopolda. Quanti di voi sono venuti alla Leopolda? La Leopolda, spiegateglielo, è una straordinaria esperienza di gente che vuole impegnarsi per la cosa pubblica. È un luogo dove si scrivono le leggi, dove si vivono emozioni. hanno cercato di criminalizzarla perché? Perché serviva anche per bloccare la crescita in quel momento dell'esperienza della start-up Italia Viva perché se non ci avessero bloccato sul nascere nel novembre del 2019 costringendoci sulla difensiva su Open sarebbe stato un altro film. Vabbè, noi tanto Conte l'abbiamo mandato a casa lo stesso tranquilli, facendo un'opera di bene. Però il punto fondamentale è che quella dinamica di Open a me non mi interessa non troverete un documento qui c'è il mio amico Marco Carrai che ha fatto cinque ricorsi in Cassazione no tre lui due hanno fatto cinque ricorsi Open è il primo processo della storia che parte dall'udienza preliminare con cinque sentenze della Corte di Cassazione contro i PM guardate che questa fa morire da ridere il problema vero è che riguarda me perché se fosse un altro sarebbe da scrivere una serie televisiva e farsi delle risate fantastiche c'è un processo ci sono i PM dice bisogna rispettare le azioni dei magistrati fanno un'azione di indagine che dura due anni prendono i telefonini e la Cassazione gli dice state facendo una non consentita funzione esplorativa che vuol dire state prendendo i telefonini per andare a vedere che c'è sotto perché non ci avete nulla in mano e andare a prendere un telefono e dice io non ho niente a temere nessuno di noi ha nulla a temere però se tutti voi siete convinti che lasciare il telefonino sia una cosa buona li lasciate qui col pin stasera andando via me li lasciate tutti qua a me mi hanno preso fate conto come abbiamo preso il pillo un banking cioè un hackeraggio di stato senza precedenti e in questo modo hanno cercato di stringere il cordone sanitario andare a vedere che cosa si poteva trovare intorno alle persone che stavano intorno a me allora questa cosa qui la Cassazione ha detto non si può fare non potete non vi è consentito eppure qualcuno ha continuato a farlo il libro racconta di questo come avete visto nel frattempo i nostri amici della regia hanno trovato almeno una centinaia di volte la fra l'ultima immagine che vi avevo chiesto di trovare del sommario ma è un modo per farvi comprare il libro fatto sta che i primi capitoli sono tutti sulla questione giudiziaria e quindi si parla della sentenza della Cassazione si parla delle sentenze della Cassazione si parla del cordone sanitario c'è uno di magistratura democratica che mi fa no dio mio ragazzi di già che miseria come lo sono persa io scusate il primo capitolo è una persona felice e non una vittima non bisogna avere il vittimismo bisogna continuare a sorridere anche perché tutta la parte buona è la parte politica cioè non è che questa qui la mettiamo agli atti perché resti raccontare perché mi hanno trasformato in un mostro la sentenza della corte di Cassazione e qui terzo è magistratura democratica e il cordone sanitario qui è bellissima come funzionano le carriere dei giudici attraverso la promozione sponsorizzata dalle correnti qual è una corrente tra le più forti magistratura democratica come diceva il mio predecessore a Palazzo Chigi è la corrente dei comunisti in realtà magistratura democratica è qualcosa di più ampio di quello che il presidente Berlusconi immaginava fatto sta che il direttore di magistratura della rivista di magistratura democratica scrive intorno al senatore Renzi bisogna mettere un cordone sanitario scusate Renzi ruba bene fregalo prendilo Renzi picchia qualcuno per la strada giusto fermalo il cordone sanitario intorno a un senatore della Repubblica non si mette non si fa perché? perché se io poi sono un magistrato che deve giudicare fate conto che sia un giovane magistrato che devo far carriera e per far carriera magari sono iscritto a magistratura democratica e mi capita tra le mani Renzi che gli faccio secondo voi quando il capo della rivista dice devo fare il cordone sanitario e siccome ci sono centinaia di magistrati bravissimi che funzionano bene che sono seri perché noi dobbiamo far sì che prevalga il corporativismo e le correnti e non il merito la bravura il talento la qualità dei magistrati e su questo nel libro poi vado veloce perché voglio parlare di politica ma mi hanno detto parlare un po' del libro in questo c'è tutta la storia anche dei nostri magistrati italiani tantissimi sono bravi però diciamo la verità noi tra una settimana meno di una settimana ricorderemo quel martire della libertà della democrazia e della legalità che si chiama Giovanni Falcone sua moglie Francesca i ragazzi della scorta e di lì a distanza di qualche settimana Paolo Borsellino i ragazzi e la ragazza della scorta Emanuela Loi bene quell'estate del 1992 ve la ricordate io avevo 17 anni ho deciso di fare giurisprudenza in quell'estate lì e molti di noi hanno vissuto quella cosa come una ferita io ricordo nel periodo che va tra maggio e luglio Paolo Borsellino agli scout a Palermo che ci dice dice agli scout io lo boy scout che ci dice di andare avanti tra la morte di Falcone e la morte di Borsellino cosa voglio dirvi è una vicenda incredibile se ci pensate Falcone e Borsellino tutti e due sono stati attaccati da pezzi della magistratura militante Falcone dal CSM da pezzi del CSM a Borsellino e sta alla memoria di Borsellino è stato combinato un ulteriore sfregio vergognoso gli hanno fatto un processo farsa un depistaggio dei giudici hanno creduto a una storia di un finto pentito per arrivare a condannare addirittura poi si è dovuto prendere atto che questa era una vergogna totale sono ripartiti da zero ma Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno vissuto sulla propria pelle e sulla propria memoria anche loro le dimostrazioni di una certa magistratura che non funziona quindi noi non siamo contro i magistrati noi siamo per i magistrati per i magistrati eroi e per i magistrati del quotidiano però diciamo anche con la stessa franchezza ragazzi no non può essere che facciamo finta di niente allora accanto a questo c'è Giuseppe Creazzo la molestia e gli arresti il giudice Nastasi questo è fantastico è un giudice Antonino Nastasi è il giudice che a Siena segue le indagini su Giuseppe Mussari sono indagini che devono essere fatte talmente bene visto che due settimane fa Mussari è stato assolto una volta che il processo è andato a Milano è assolto bene il paese funziona e quindi c'è un secondo grado di giudizio la notte in cui Davide Rossi un dirigente del Monte dei Paschi di Siena si butta secondo la ricostruzione che viene fatta o viene buttato come ritiene qualcuno dal quarto piano dell'ufficio dello storico palazzo del Monte dei Paschi a Siena il giudice Nastasi entra sulla scena del crimine voi direte è un magistrato ma non è che uno vede un reato e entra a lui ci sono delle leggi chi interviene? interviene il magistrato di turno o il magistrato che viene incaricato dal procuratore capo che dice tocca a te tocca a te tocca a te è il procuratore capo che assegna il fascicolo Anastasi quella sera nessuno ha assegnato il fascicolo non è di turno interviene e casualmente in quelle ore la scena criminis viene inquinata io non sto mica dicendo che è colpa di Anastasi il quale peraltro nei racconti che fa dice ad esempio questo signore col cappellino Anastasi dice ad esempio io ricordo nitidamente di non essere stato nel vicolo gli fanno vedere i commissari scusi e questo chi è? ah no ho sbagliato se lo faccio io in aula di tribunale mi condanna all'ergastro anche perché aveva già detto 40 volte non ricordo e 30 volte non so quindi poteva dire un'altra volta ma non è questo il punto il punto è che bisogna far valere le leggi noi siamo quelli che chiediamo rispetto delle leggi se tu non sei il magistrato non vai a interrogare la vedova come lui ha fatto e non mandi la guardia di finanza a interrogare due cittadini incensurati appunto casualmente Marco Carrai e sua moglie la notte a mezzanotte e mezzo su un procedimento che non sta né in cielo né in terra leggetelo se volete quel capitoletto e poi c'è Luca Turco che per me è una sorta di affetto stabile la prima volta che l'ho incontrato lo racconto nel libro è il momento dell'interrogatorio perché c'è l'interrogatorio io chiedo di essere interrogato gli avvocati mi fanno oi che tu va a fare l'interrogatorio lascia stare tanto ti rinviano a giudizio chiedo no no io vado a farmi interrogare perché voglio farmi interrogare io metto i jeans un po' sdruciti anche per fare un po' il ragazzo che non ha paura di niente di nessuno e arrivo al palazzo di giustizia arrivo arrivo al dottor Turco buongiorno dottore buongiorno senatore ma lei si ricorda di me mi fa lui dai si ricorderà di me mi ha arrestato il babbo mi ha arrestato la mamma mi ha indagato il cognato mi ha indagato la sorella mi ha dato due avvisi di garanzia ha portato via telefoni a tutti i miei amici a tutti i finanziatori l'Italia arriva ai 2% grazie a tutta sta roba però chi sia lei un po' me lo ricordo però non mi sembra di averla mai incontrata ma noi ci siamo incontrati personalmente perché lei ha presentato il libro di mio padre nel libro c'è il racconto della storia tra l'altro padre persona straordinariamente perbene tanto è che glielo ho anche detto come ha fatto a venire fuori lei no ma l'ho buttata no no ma l'ho messo proprio sul rapporto così nel senso che un incontro molto civile a differenza di altri incontri e quindi è stato un incontro bene il dottor Turco nel libro c'è l'elenco di come cerca di indagare sulla principale azienda fiorentina che si chiama Menarini azienda farmaceutica leggetelo vi dico altro a un certo punto compare persino Ranucci di Report e ciò nonostante potete andare avanti nella lettura va a finire spoiler che Report fa i servizi quando c'è la condanna in primo grado e quando c'è la soluzione in secondo grado Ranucci deve essere stato in ferie succede ragazzi le ferie sono un diritto costituzionale poi che cosa abbiamo il cordone sanitario sulla famiglia anche con le dinamiche personali l'altra faccia delle istituzioni tutto il tema legato alle mie relazioni con un po' c'è un po' di servizi segreti italiani americani c'è l'autogrill l'autogrill ragazzi è una cosa bellissima l'autogrill è la storia più bella è anche quella da fare la serie televisiva l'autogrill dove alla fine nella ricostruzione di Report uno va a destra e uno a sinistra oh lo sanno tutti l'autostrada va in una sola direzione se racconti che uno va a sinistra fai frontale non va bene ce lo capisce anche Toninelli ragazzi è facile è facile sei in autogrill giri vai a destra tutti a destra dice ma non è un fatto politico non vorrei che poi arrivasse la solita vabbè c'è tutto il tema dell'autogrill il sono una serie di cose poi c'è le coincidenze di Banca d'Italia che sono bellissime tanto è un capitolo dove mi sono fatto tanti nuovi amici anche questo ho detto che il presidente della Consop si deve vergognare ma scrivo perché perché scrive noi abbiamo un presidente della Consop che dice che l'Italia è in una forma di latente dittatura cioè in un mondo questa cosa non interessa a nessun giornalista finanziario noi abbiamo il capo della Consop che è quello che deve garantirci per gli investimenti stranieri internazionali che dice l'Italia è in dittatura io gli direi guarda si viene a prenderti con un camioncino con le lucine tranquillo ti si porta via ma vi rendete conto che è il capo della Consop chi è il capo della Consop? Savona chi era? era quello che il governo conte perché poi alla fine si lega tutto bisognerebbe iniziare a mettere a unire i puntini come nei racconti della settimana enigmistica era quello che volevano fare il ministro dell'economia Mattarella Mattarella gli disse ma siete matti Mattarella non gli disse così Mattarella disse non firmo perché Mattarella è una persona educata e il Presidente della Repubblica ha il potere e il dovere di non firmare se non vuole firmare non firma Di Maio arriva lì va in televisione da Fazio io sono per la messa è stato d'accusa per l'alto tradimento vergogna Mattarella impeachment e dopo tre giorni dicono guarda se non fai bravo non fai ministro e Di Maio dice Mattarella è mio angelo custode Mattarella è bravo Di Maio ha fatto un corso di recupero straordinario la farnesina è meglio che l'esame di riparazione a settembre non ho mai visto un allievo cercare tra l'altro è una cosa bellissima perché veramente Di Maio è su tutto poi Di Maio è bravo perché chiede scusa i grillini sono diventati bravissimi erano per la Tav erano contro la Tav e poi si è stata per la Tav erano contro la Tav e poi si è stata per la Tav erano contro le Olimpiadi e poi per le Olimpiadi erano giustizialisti e garantisti a me ricordano la scena dei grillini ricorda ce l'hai quel video di Benigni a me mi fa impazzire perché pendono ti distruggono e poi ti chiedono scusa Cozzamara mi mandi Cozzamara di Benigni me lo mandi Alza il volume Che cosa hai fatto? Quella volta che ho fatto muore il Giacomo Melino è passata qua no ti ricordi l'andai a far fuori che avevo la mitraglietta l'F44 l'F44 c'è la raffa che è un po' non si è controlla bene lo sai ho sparato a Giacomo Melino ho preso pure la moglie di Cozzamara per errore poi gli ho telefonato subito infatti gli ho telefonato subito di Cosette Cozzamara scusa 10 minuti fa circa ho ammazzato la moglie ha tua pazienza scusa scusa gli ho detto scusa si è incazzato ha fatto tutta una storia è troppo per maloso è così non siamo a lavorare è così loro sono così cioè hanno per 5 anni massacrato tutte le volte gli arresti le mani in crisi di petrolio poi la Fiera ha iniziato a chiederci scusa si è incazzato è una roba luce vabbè detto di torniamo al libro che poi si va sulla parte politica per aver insommario eccolo lì grandissimo poi c'è tutto il tema ah bellissimo la sovranità energetica ora sono tutti per la sovranità energetica ragazzi ma ve lo ricordate come hanno massacrato il popolo Carbone per un ciaone cioè dice ma Carbone poteva non fare il ciaone ha messo ciaone e te sei contro vuoi uccidere i pesci nel mare sei contro sei per le trivelle sei un inquinatore ora sono tutti diventati a favore dell'aumento della capacità energetica ma ve lo ricordate cosa è successo vi viene il sospetto che ci fosse qualche campagna di fake news su quei temi magari gestita da qualche stato estero vi viene adesso il sospetto che quando chiedevamo oh allora qui guarda questo è bellissimo allora la rega Casa Pound i 5 Stelle Fratelli d'Italia Forza Nuova Forza Italia non era ancora nato l'EU ma c'era tutta la parte della sinistra del PD e naturalmente c'era il mitico Michele Emiliano che arrivano e dicono tutti insieme contro voi scherzate ma io lo racconto nel libro oggi l'ha scritto la Gazzetta del Sud la Puglia è la regione cosa vuol dire la regione che amo no quella è quell'altra la Puglia è la regione di mia nonna io sono uno di quelli che come dire esperto di panzerotti di orecchiette cioè quando si parla di cibo sono eclettico però in questo caso diciamo ho una certa passione per la Puglia e la Puglia io la amo molto nel libro racconto un momento nel quale io non posso più camminare per le strade di Bari ora io lo dico scherzando però mi fa male sono a Bari per un caso e essendo a Bari alzo il telefono ho due ore libere prima dell'aereo chiamo mio amico Giovanni Sasso che con lui avevamo fatto con Proforma la prima campagna le seconde primarie quelle del 2013 io dove sei? ma passano a me arrivo prendo arrivo a Bari da Giovanni e naturalmente ci facciamo un selfie e prendiamo in giro il nostro amico Antonio De Caro che è lì e Antonio che è il sindaco di Bari persona a cui voglio molto bene gli ho rovinato la vita nel senso che era lì Bellino faccia il parlamentare stava bene tranquillo gli ha fatto oh Antonio senti ci manca il sindaco a Bari non ho capito e ti ha capito vai e infatti è andato a fare il sindaco di Bari lo fa benissimo il presidente dell'Anci mandiamo questo messaggio e gli dico Antonio ma dove siete? e lui ci raggiunge una rimpatriata tra amici la politica ha questo il vero lusso della politica sono i rapporti umani non credete a quelli che vi raccontano barzelletti la politica ha questa dimensione personale di umanità allora arrivo e mi dice Antonio vabbè andiamo a mangiare un panzerotto fuori e gli dico Antonio non si può perché? perché se ti vedono con me perdi punti ora voi capite che io lo dico scherzando lo dico con il sorriso ma quella campagna di odio che è seguita alle trivelle in Puglia e poi anche alla buona scuola dove addirittura Emiliano arrivò a dire che noi avevamo costretto gli insegnanti ad essere deportati deportati sapete che vuol dire? vabbè fatto sta che Antonio mi manda un messaggio la sera dopo io sono già mi ricordo dove ero ero già trovato a Firenze ma mi ricordo e ci siamo scritti anche stamani commentando quell'episodio e mi dice io non ci ho dormito al pensiero che una volta ho fatto mille chilometri da Bari a Torino per venire a fare una foto con te quando eri importante ed eri candidato eri già presidente ed eri segretario del PD mi fa dolore pensare di non poter offrirti un panzerotto allora capite che c'è una dimensione anche di sofferenza personale che è niente rispetto alle vere sofferenze personali al bambino alle cose che ho raccontato ma c'è un dolore quando la gente arma le parole contro una persona c'è chi come me c'è un bel carattere o se volete un pessimo carattere c'è chi come me prende e resiste c'è chi come me prende e risponde c'è chi come me è qui ha scritto un libro chiamandolo il mostro e dice qui davanti a voi che vado avanti fino all'ultimo botta su botta colpo su colpo non gliene lascio passare mezza che non mi non mi beccheranno non mi fermeranno mai però c'è una dimensione umana di sofferenza su queste robe qua e vabbè ne riprenderemo poi c'è il brutto carattere lascio stare l'onestà e la competenza capite che è un capitolo dedicato ai 5 stelle ma non solo ai 5 stelle no Toninelli ragazzi non ne parliamo non è citato però mi fai vedere il video io sono dell'idea che si debba arrivare a fare come nel calcio la VAR hai visto quando c'è un episodio dubbio e vai a vedere la VAR perché qui io non ci capisco più nulla io c'ho quelli che dicevano che l'Ucraina era uno stato nazista che oggi fanno i vice ministri agli esteri sulla linea pro-Ucraina anti-russa o Salvini che voleva armare in un periodo anche il benzinaio e che oggi ho visto i sondaggi per la pace o Conte Conte che è la medaglia d'oro delle facce di bronzo che ha aumentato la spesa per le armi più di tutti gli altri che oggi ho visto un sondaggio e dice io sono per la pace e soprattutto su tutte le questioni bisognerebbe dire si può fare si può chiamare andare a rivedere quello che è successo il VAR è questo mi mandi due minuti di VAR cosa è successo in questi anni adesso questa roba dell'espo guardi qui ci verranno due milioni di persone ma chi è che viene a rotto noi governo del Movimento 5 Stelle quest'opera la blocchiamo in due settimane in due settimane c'è una sentenza che sostiene che il vaccino può causare l'autismo non ci liberiamo dall'euro il mezzogiorno d'Italia diventerà una terra desolata e spopolata che il presidente Conte possa continuare in Europa il lavoro importante che è stato fatto partiamo dall'Ucraina nel febbraio scorso subisce un colpo di Stato da USA e Unione Europea Ucraina e Grecia sono i due topi da laboratorio nel continente europeo di questa dittatura euro-nazi è dai responsabili dire sì a questa candidatura lo diciamo qui oggi mantenendo una posizione non abbiamo mai cambiato idea penso che Putin abbia le idee molto più chiare in politica di essere di Renzi sulla difesa del suo interesse nazionale se loro pensano che la ricerca di idrocarburi sia una delle soluzioni alla crisi italiana lo devono dire e dopodiché noi valuteremo come abbiamo già fatto se fare referendum se in concomitanza con il discorso di Mattarella ci sarà Masha e Orso io guarderò Masha e Orso perché è un cartone animato russo e non è l'unica cosa che invidio ai russi perché gli invidio anche Putin nel caso fosse un governo diciamo tragico anche se venisse Superman siamo nel porto di Sebastopoli Repubblica di Crimea parte della federazione russa dopo regolare il libero referendum e qua c'è che è una parte della lotta russa che difende i confini la nostra proposta è da sempre scioglimento concordato e controllato della zona euro io ridiscuterei anche la presenza dell'Italia nella nara ecco ma quando io sono populista il Movimento 5 Stelle sta realizzando il tuo sogno uscire dall'euro è possibile ma abbiamo bisogno del tuo aiuto firma anche tu si sta iniziando a parlare di impeachment la messa in stato d'accusa si può fare serve la maggioranza assoluta del Parlamento ragazzi questi sono due minuti dice ma tu hai cambiato idea sul restare in politica caspiteria loro non hanno cambiato idea su tutto no voi dite bravo ma noi abbiamo questo problema che pensiamo che la competenza sia una cosa seria in politica noi il 6, 7, 8, 9 settembre andiamo a Ventotene con centinaia settembre 6, 7, 8, 9 settembre centinaia di ragazzi a fare la scuola di formazione perché noi pensiamo che non basti informarsi occorra formarsi noi pensiamo che sui dossier bisogna studiare noi pensiamo che le soluzioni non siano facili guardate quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia è una cosa enorme io leggo dei commenti da Bar dello Sport ma i commenti da Bar dello Sport vanno belli per uno che fa un cantante che fa la rockstar non puoi pensare di fare un commento del genere a una vicenda che è epocale intanto chi è il copervo è chiaro che è Putin lo capisce chiunque Putin ha preso ha invaso l'Ucraina c'è qualcuno che ha dei dubbi su questo? dopodiché è chiaro contemporaneamente che l'Ucraina va sostenuta perché non è che la puoi far difendere con le cerbottane e quindi è evidente che questo tema degli aiuti all'Ucraina si pone dopodiché c'è un mondo nel mezzo perché questa vicenda che cosa comporta? uno un fenomeno migratorio enorme dall'Ucraina ai nostri comuni certo ma in prospettiva un fenomeno migratorio enorme che partirà nelle prossime settimane nei prossimi mesi dalla carestia che l'Africa si accinge a vivere ne abbiamo parlato recentemente sul tema della sovranità alimentare è un passaggio che cambierà radicalmente la storia del pianeta la Russia sta guardando ad est ma Cina e India insieme su 3 miliardi l'Europa insieme su 400 milioni la Nigeria supererà l'Europa da qui a vent'anni non l'Africa la Nigeria un paese uno e di fronte a questi scenari andare a domandarsi che tipo di Nato vogliamo immaginare sta crescendo il terrorismo islamico non ne parla più nessuno siamo tutti giustamente concentrati sull'Ucraina non ce n'è uno che parli delle bambine di Kabul a cui è stata tolta la scuola le ragazze che sono costrette a rimettersi il burka non ne parla nessuno pezzi interi di nazioni sia nell'Oriente che in Africa che stanno volendo crescere l'estremismo islamico di fronte a questi problemi uno dovrebbe dire ragazzi la politica estera è una cosa seria e noi chi abbiamo? e noi abbiamo la corsa a prendere un like in più noi abbiamo la corsa a prendere il sondaggio a guardare il sondaggio vale per un sacco di gente che non è che fa la fatica di ragionare e di dire dobbiamo impostare il futuro dei prossimi vent'anni per i nostri figli sta cambiando l'ordine che Yalta aveva costruito e che il muro di Berlino aveva in qualche modo riassettato no abbiamo una discussione in Italia che è banale che è ridicola abbiamo una corsa a prendere il consenso sul presunto pacifismo che nessuno ha il coraggio di definire per quello che è una vergogna e allora di fronte a questi temi qua bisogna dire a chi vuole far politica dovete studiare se volete pensare di venire qui a raccontare balle perché uno vale uno uno non vale uno io in politica non voglio uno di noi voglio uno meglio di me perché se prendo uno come me non ha la competenza devo prendere uno più bravo questo è l'obiettivo di avere la gente in politica politica estera politica economica in politica finanziaria in politica ambientale e tutto il resto ecco di fronte a questo elemento noi siamo gli unici di Italia Viva che continuiamo imperterriti a fare le nostre battaglie a viso aperto del tredicesimo e penultimo capitolo il tredicesimo capitolo che racconta ciò che è successo sul Quirinale a chi siamo noi siamo una banda di persone un po' fuori di testa sì però quando si tratta di scegliere e di fare delle battaglie le facciamo a viso aperto l'abbiamo fatta tra Conte e Draghi oh ragazzi quella di Conte ce l'abbiamo 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 a essere in mano a Ciampolillo lo so che ci siete rimasti male perché a Ciampolillo tutto sommato vi piaceva ma al di là di Conte veniamo al Quirinale perché vale anche per Salvini al papete ve lo ricordate Salvini al papete se io avessi seguito i sondaggi non avrei fatto l'accordo con i 5 stelle in quel momento lì e sarei stato molto meglio almeno in termini di consumo di Malox ma abbiamo scelto di fare l'accordo con i 5 stelle perché se si fosse andati a votare in quel passaggio lì c'è qualche statista non strano che continua a dirmi ah no tu dovevi essere coerente e andare a votare bravo così mi asfaltava Salvini c'era Salvini Premier la Meloni Vice Premier e 5 anni di governo con l'Europa a rischio vi rendete conto di che cosa sarebbe accaduto se noi avessimo accettato in quel momento di essere attenti al nostro consenso bisogna avere coraggio in politica la politica è fatta per questo se non la volete fare non la fate tanto sta che arriva al Quirinale e al Quirinale io racconto nel libro come giusto nel capitolo mi faccio nuovi amici abbiamo fatto la guerra al Presidente del Consiglio di Stato e al Capo dei Servizi Segreti perché noi siamo gente per bene quando si tratta di farci dei nemici non è che ci facciamo un nemico così ce ne facciamo in serie produzione industriale di nemici nelle notti del Quirinale a parte Salvini delle volte spariva faceva X Factor cercava il Presidente e in alcuni casi tutti noi giocavamo a indovina chi dice ma chi stanno incontrando Salvini e Conto non lo so ai baffi come indovina chi anche se quando si parla di ai baffi il pensiero corre subito ermili che abbiamo tutto da imparare io ho fatto gli 80 euro e non sono di sinistra lui ha fatto una mediazione da 80 milioni di euro ed è di sinistra quindi voi non avete capito nulla lui si che sa cosa è la sinistra lui si che garantisce per i ventilatori cinesi malfunzionanti lui no per contro le armi quelli alla Colombia gli andavano bene quindi fermati ora non facciamo è diciamo geopoliticamente interessante però al di là di quello nelle notti del Quirinale a un certo punto ci sono due candidature che vengono fuori quella però che si impone a una certa ora nel libro la racconto dicendo ho sbagliato mi sono fatto fregare è il venerdì sera eravamo finito la riunione ci eravamo dati appuntamento per la mattina alla sala della lupa alle 8 ci saremo visti come Italia Viva io vado lì tutto tranquillo perché alla fine l'abbiamo impattata bene la partita lì c'è ancora l'ipotesi Draghi che era l'ipotesi che io preferivo c'era l'ipotesi Casini che avrei visto molto bene c'era l'ipotesi Severino c'erano una serie di ipotesi sul tappeto c'era alla fine come extrema razio l'ipotesi Mattarella bis che per le ragioni che Mattarella aveva espresso io pensavo che non fosse la soluzione migliore e infatti noi lavoravamo su altre soluzioni ma pensavamo di aver messo in un angolo i vari tentativi degli altri di fatto sta che a loro gli frega il Tg1 perché alle 19.52 arriva Salvini e fa una dichiarazione dicendo avremo una presidente donna era la settima dei Salvini negli ultimi 5 giorni a un certo punto l'avevamo beccato a casa di Cassese io mi metto nella testa di Cassese che gli arriva la telefonata di Salvini dice posso venire a mangiare da lei voi mi vedete ma a qualcuno è andata peggio dice scusi lei spaccia in Almoglia perché ha chiesto una maestra di verdura quindi c'è già un passo in avanti e quindi lascia fare quando mi dicono dice ma lo sai che Salvini è la casa io mi metto va bene lasciamo stare e poi c'era c'era Conte che aveva l'idea perché Conte faceva i tweet uguali a Letta ma cercava di fare l'accordo con Salvini Salvini faceva le riunioni con Berlusconi ma cercava di fare l'accordo con Conte e Salvini aveva un rigore solo che Salvini a un certo punto anziché battere il rigore decide di fargli il cucchiaio allora o ti chiami Francesco Totti che dice moglie faccia il cucchiaio e però glielo fa glielo fa anche Benzema arriva alla partita finale di Manchester City 4 a 2 prende l'ha sbagliato due rigori il giorno prima e fa il cucchiaio o se un semola fa il cucchiaio e il portiere di Manfermo passi a Firenze si dice passi anche da Bischero che non è offensivo è la citazione di una nobile famiglia la famiglia Bischeri che in Firenze secondo me ne abbiamo parlato a lungo ma che vi risparmia adesso diciamo non brillò per particolare intelligenza mettiamola così bene quanto sta che quella sera alle 19.52 Salvini alle 19.55 Conti dicono c'è una donna presidente perché devo andare a mettere il cappello prima io dico lì per lì dico poi dico ma che mi hanno fregato e chiamo quei DPD e quei DPD li sento strani perché Letta l'avevo chiamato sulla sulla vicenda di 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 Frattini ed era stato molto duro noi non accetteremo un presidente che è considerato filo russo sulla Meloni inizia a fare ma sai vediamo campione di Stasireno so io non lui va bene chiamola Meloni e mi dico ma non ti sembra un precedente assurdo e lì devo dire che la Meloni è simpatica per una volta mi dice te sei cintura nera di precedenti assurdi Matteo che è una battuta che mi è piaciuta chiamo Franceschini che ne esce con il suo mantra eh Matteo succede quando mi dice succede e mi dice la politica è come si può dire è una parola volgare che non si può dire che è un modo di Franceschini tipico capisco che mi hanno fregato e lì è un casino per noi perché abbiamo due alternative o sosteniamo anche noi la Belloni che è la capo dei servizi segreti candidata dall'asse giallo verde con un precedente istituzionale assurdo perché nominare il capo dei servizi segreti l'ha fatto soltanto la Russia con Putin e l'Egitto con Al-Sisi punto chi vi dice l'esempio di Bush padre dice una cosa che non stanno in cielo né in terra Bush padre fa il capo della CIA per un anno dal 76 al 77 poi fa per tre anni altre attività poi diventa candidato vicepresidente poi diventa candidato presidente quindi tutta un'altra storia fatto sta che il capo in carica dei servizi che diventa presidente della Repubblica per di più su un asse giallo verde due alternative alternativa numero uno fare come fanno tutti chiamare la Belloni e dire ti ho sempre pensato che guarda è quello che fanno i politici media cioè no hai deciso di nominare mia cara non sai quanto ho pensato a te in questi mesi la seconda è quella che io ho chiamato la Belloni e gli ho detto Elisabetta con tutto l'affetto domani probabilmente sarai presidente della Repubblica gli ho fatto un audio l'ho scritto nel libro l'ho sbobinato nel libro però noi votiamo contro nel dire che noi votiamo contro esponevo Italia Viva già in sondaggi straordinariamente forti e efficaci tra il 39 e il 42% ha un rischio perché costringevo tutti i miei amici di Italia Viva a far che a stare non sulla candidatura vincente ma su quella perdente e però se a un certo punto hai il coraggio delle tue idee se pensi che sia un precedente istituzionale sbagliato devi dirlo a quel punto chiamo la Belloni lei mi risponde gli sms scendo le scale verso Montecitorio dove c'è il protone di esecuzione dei media e inizio per un'ora andare contro la candidatura della Belloni quando sono sceso io ero convinto che fosse persa la battaglia ero convinto che fosse persa poi vedo via via che iniziano arrivare i messaggini il primo è di quelli della sinistra radicale che non sanno come fare a darmi ragione perché ragazzi voi scherzate ma poveretti anche loro e quindi ne escono esce uno con la dichiarazione più bella e uno dice anche se lo dice Lenzi è vero che io raggiudico un capolavoro totale che dice non si può portare uno che dai servizi segreti va a quel punto vedo e prendo qualche cuor di leone e gli dico tranquilli ragazzi voi votate pure la Belloni voi domani voterete il capo dei servizi segreti noi voteremo contro il capo dei servizi segreti il presidente della Repubblica uscente tre defibrillatori raggiungono il Nazareno quelli di Forza Italia mettono dubbi e lì c'è il Doroteo Di Maio che è Doroteo l'aspirante Doroteo l'aspirante corso di recupera Doroteo che dice chi ha candidato la Belloni gli ha fatto del male cioè che era un modo anche simpatico anche lui perché alla fine il fatto sta che ci è andata bene quella sera poi ci sono altre vicende alla fine si va su Mattarella però quello che voglio dirvi è che noi siamo quelli che certe battaglie le vogliono fare e mi avvio a chiudere il mostro è il racconto di chi avendo fatto certe battaglie avendone vissute sulla propria pelle altre avendo anche sofferto una dimensione personale qualche scontro anche in famiglia purtroppo perché ci sono degli elementi di tensione che crescono su queste vicende perché è facile dire va tutto bene poi però ti arriva avviso di garanzia la polemica sui giornali il nipotino che ti chiede che è successo sono cose che fanno male niente rispetto a chi soffre davvero ricordatevi sempre che c'è gente che soffre molto più di quello che abbiamo sofferto noi perché quando io dico che il problema non è l'arresto che è stato fatto ma l'arresto che non è stato fatto perché una famiglia oggi piange un bambino che aveva 5 mesi perché questo deve essere quello che ci deve restare inteso nella testa scritto dentro questa battaglia non è per me o per noi è per chi non se la può permettere dal punto di vista mediatico è una battaglia di civiltà ecco di fronte a questo elemento di battaglia di civiltà noi che cosa pensiamo di poter fare? pensiamo e di poter e di dover fare una battaglia su dei contenuti da qui al prossimo anno perché da qui al prossimo anno c'è un bel annetto si voterà a maggio del 2023 non si voterà con l'unica legge che andava fatta cioè l'elezione diretta del sindaco ragazzi fino a che non cambiano le riforme istituzionali e costituzionali di questo paese non si va da nessuna parte è inutile avevamo fatto bene a chiedere le riforme costituzionali non continuate a dire ma perché c'è scommesso tutto bisognava farlo perché non c'era alternativa altrimenti non governi mai e guardate che è sempre più chiaro poi col 4% di parlamentari abbiamo fatto vedere i sorci verdi quindi se prendiamo almeno il 5% il film è garantito anche il sequel quindi ve lo dico perché dipenderà anche da molti di voi però al di là dell'aspetto di quanto prenderemo il punto chiave per me il punto bello è quello di avere degli argomenti dei contenuti su cui fare la differenza e noi li abbiamo sull'energia noi non siamo come gli altri noi non siamo quelli che vogliono come ha fatto la regione Lazio portando da Roberta Lombardi Assessore Grillino è arrivata qui e ha fatto la moratoria voi direte di che? ha fatto la moratoria delle centrali nucleari no ci sono ha fatto la moratoria delle rinnovabili cioè io non lo so come vi può venire in mente sei mesi fa sei mesi fa è arrivata e ha detto moratoria delle rinnovabili ma come? già c'è poca energia le rinnovabili hanno messo la moratoria io non so se è chiaro noi abbiamo le idee chiare sui temi legati alle infrastrutture è mai possibile che in questo paese noi abbiamo delle forze politiche che sono contrari Beppe Grillo uno statista di indubbia fama un uomo che ha segnato con la sua proverbiale eleganza e stile le ultime pagine di storia repubblicana Beppe Grillo ha messo in discussione persino Lagronda ha detto a Genova Lagronda va fatta con l'esercito è noto che Genova non ha problemi di infrastrutture cioè Genova è una città che è proprio in mezzo a tutte le altre non è per niente isolata non ha problemi di infrastrutture bene a fronte di tutto questo sulle infrastrutture sulle questioni legate alla famiglia al family act sulle questioni legate all'innovazione tecnologica sulle questioni legate al nostro stare in Europa con Macron non con altri ho visto qualcuno che ha detto che Macron è come Salvini o ragazzi o ragazzi un corso accelerato di politica Macron è l'unica salvezza che noi abbiamo in questa fase ed è l'unico punto di riferimento vero che stiamo cercando di seguire e potrei continuare a lungo con tutte le questioni di merito il punto centrale è che questa battaglia sui contenuti che noi vogliamo e dobbiamo fare la dobbiamo fare anche sui temi culturali finisco con due ultime considerazioni la prima ce ne avevo ho saltato circa nella scaletta ora che l'ho provata la prima volta vi dico che la scaletta di questa prima durerà circa due ore e quaranta quindi siccome ho detto che dopo un'ora smetto il resto la metteremo nelle prossime puntate però un concetto uno perché mi sembra quello che io ci tengo più di tutti noi stiamo andando verso una radicale trasformazione la gente va sullo spazio certo ma la gente va nel metaverso cosa vuol dire l'incrocio tra big data innovazione tecnologica realtà virtuale realtà aumentata porta a immaginare un nuovo mondo che si concretizza in tanti modi il blockchain le monete digitali tutto ciò che ha a che vedere con l'analisi dei big data sono tutti temi che sarebbe affascinante mettersi a studiare qua in questa analisi c'è un punto fondamentale l'Italia che gioco gioca secondo me l'Italia deve portare dentro il mondo nuovo che verrà a trasformarsi la forza dei propri valori culturali lo dico a Roma ma lo potrei dire ovviamente in una città culturalmente è ancora più importante che inizia sette lettere caputmundi ma se bisogna avere il coraggio di provarci bisogna vivere comunque siete la seconda città più bella del mondo questo mi fregò Veltroni una volta io andai ero a fare una campagna elettorale ero a fare la campagna elettorale del sindaco ero con Francesco a fare la campagna elettorale del sindaco arrivai e dissi ed ecco a voi Walter Veltroni che è stato il sindaco della seconda città più bella del mondo ah Veltroni si mette mi fregò alla grande se è rimasto ce l'ho ancora qui in Africa Veltroni disse sono contento di salutare Matteo che sarà il sindaco della seconda città più bella d'Italia ciao la giocò bene sbaglia io ma lui la giocò bene comunque fatto sta che la cultura e la bellezza sono il punto di riferimento ecco perché io dico ragazzi bisogna dire di studiare di formarsi di vivere l'educazione di non mollare sui temi culturali e sui temi educativi è questo il futuro altro che uno vale uno bisogna educare i nostri ragazzi a provarci ad approfondire e guardate che questo tema è il tema su cui noi abbiamo fatto le cose più belle al governo perché non deve stare a fare tutte le discussioni importanti in sociale nel libro c'è un capitolo sullo ZAN se c'è un colpevole della gestione dello ZAN è il partito democratico no è brutto dirlo io l'ho detto bene Enrico quando l'ho rivisto perché perché lo ZAN è una legge che era fatta bastava fare una piccola modifica e il compromesso porta alle leggi e quando c'è stato da fare le unioni civili noi abbiamo fatto un compromesso perché se no non si portava a casa e lo sa bene Ivan e lo sanno bene tutti i nostri amici che su questo hanno perso anni di vita a litigare a discutere essere stati noi additati come i responsabili dello ZAN serviva a farsi prendere una bella ondata di fango mediatico addosso a noi ma non a risolvere i problemi io non voglio scrivere i tweet io voglio scrivere i decreti in gazzetta ufficiale io ho messo la fiducia sulle unioni civili e l'ho portata a casa loro hanno fatto un gran chiacchiericcio e non hanno portato a casa niente però hanno preso il tweet di Lady Gaga e sapete dove me lo metto il tweet di Lady Gaga? sul naso Ivan non essere volgare e dai e mamma mia sei anche al governo allora il punto centrale il libro va avanti su tante altre questioni non la posso fare rimango sulla cultura perché parlo della cultura? c'è una serie Netflix che non vi dico di mandare la metteremo una prossima volta sulla questione del Bataclan vi ricordate il Bataclan? novembre del 2015 il Bataclan la morte di Vadare Solesin il terribile evento in un teatro è il simbolo secondo me di uno spartiacque sono gli estremisti islamici che colpiscono il luogo della quotidianità lo stadio i ristoranti e il teatro e che danno il messaggio che attaccano la nostra cultura esattamente come i talebani avevano buttato giù le statue dei Buddha e guardate che quell'atteggiamento talebano di distruggere le statue oggi paradossalmente mutatis mutatis è lo stesso di certa cultura americana che vuole distruggere pezzi di storia americana nascondendo tutto ciò che è il nostro patrimonio Matteo ma che stai dicendo? sto dicendo che la questione educativa e culturale contro la cancer culture è un pezzo dell'identità del futuro ecco perché noi dobbiamo non soltanto dire riaprite i teatri ma riempite i teatri non soltanto dobbiamo dire vivete l'attenzione alla bellezza ma andate a educarvi e a educarci nei musei nei concerti fate della musica l'elemento di grandezza di un popolo e di una comunità c'è qui Lucio quando è stato fatto Sanremo senza pubblico e i professionisti sono stati bravissimi tanto è stato quello che era subito dai Manneskin quindi a livello musicale un trionfo perché comunque è partita una band che oggi è tra le più forti al mondo era diverso da quando c'è la gente che interagisce ma non per un fatto di spettacolo perché applaudono perché è una comunità che vive delle emozioni questa è la cultura noi dobbiamo recuperare questo tema della questione educativa e culturale come base dei prossimi mesi e dei prossimi anni insomma ce n'è da benedire e da santificare abbiamo da fare mille cose le faremo le faremo però come? con uno spirito così chiudo ripartendo da dove avevo cominciato con lo spirito di chissà che è stato trasformato in un mostro agli occhi della gente oh poi ci ho messo degli errori anch'io eh parliamoci chiaro ho fatto degli errori anche io abbiamo fatto degli errori anche noi ma in questa trasformazione a me non fa male perché so che noi faremo una battaglia casa per casa strada per strada luogo per luogo e ci divertiremo andare a riprendere il consenso e lo possiamo fare per due motivi il primo è perché noi siamo bravi perché noi siamo persone noi che credono a un disegno a un progetto a un ideale a dei valori ci siamo il secondo è che loro sono scaci che loro non sono all'altezza che loro non sono capaci quindi guardate che è inutile stare a discutere noi abbiamo uno spazio se noi non andiamo a riprenderci questo consenso è colpa nostra quindi lo faremo però quello che mi fa arrabbiare e su cui voglio andare verso la conclusione è che questa aggressione sul mostro in parte ha colpito me la mia famiglia tutto quello che volete ma ha colpito il popolo della Leopolda cioè si è fatto passare il messaggio che la Leopolda fosse una associazione a delinquere allora io ho ripensato a questi anni di Leopolda cos'è la Leopolda? La Leopolda è un luogo dove la gente va e inizia a chiedere di fare una politica diversa e ho pensato alle tante persone che si sono succedute su quel palco qualcuno ha detto anche delle cose che non stavano in cielo o in terra qualcuno ha detto le cose bellissime ma l'idea che dei magistrati perché vogliono trovare altro parliamoci chiaro i magistrati erano convinti di andare a prendere me e di trovare qualcosa intorno a me e quindi sono partiti e sono partiti dagli amici e hanno preso i telefonini dei finanziatori e sono andati poi voi siete un finanziatore date 10.000 euro Italia Viva o più correttamente in quel caso alla fondazione che organizza Leopolda secondo voi se gli date 10.000 euro e vengono a prendervi in casa a rovistare a tirare fuori a prendervi il telefonino per 11 mesi vi controllano la vita non ve lo restituisco la prossima volta che cosa fate voi? se me li ridai vuol dire che sei malato di mente infatti c'è qualcuno che è malato di mente ma gente che continua a stare accanto a me in alcuni mesi è gente che ha sprezzo il pericolo il punto fondamentale però non è per me è la Leopolda per chi la Leopolda l'ha vissuta allora vorrei che ci avviassimo a chiudere con l'immagine di una di noi è l'immagine di Claudia perché qualche settimana fa Claudia che ha la SLA si è sposata e mi ha chiesto di andare a celebrare il matrimonio in casa sua a Piombino è stato uno dei momenti più belli più toccanti degli ultimi mesi oggi Claudia non si può muovere come prima però per dire che cos'è la Leopolda a tutti quelli che dicono che la Leopolda è un'associazione a delinquere di persone che vogliono rendicontare col modulo B anziché col modulo A perché di questo si parla cioè nel tempo delle monete digitali e dei bitcoin non è in discussione la trasparenza la fa tutti con bonifico ma che la rendicontazione sia di una fondazione anziché di un partito ed è ovvio che è una fondazione perché un partito non lo decide un PM cos'è un partito quando il PM pretende di decidere cos'è un partito politico quella non è più una democrazia perché la democrazia non fa decidere i PM come ti organizzi i partiti fa decidere i PM chi ruba però siccome questo è a me da noia che la Leopolda sia diventata agli occhi di tanti italiani un luogo di malaffare invece la Leopolda è Claudia come tanti di noi io sono una farmacista spedaliera e fino a poco tempo fa sono sempre stata dalla parte privilegiata del bancone ero la farmacista che preparava controllava e consegnava il pacchetto al paziente poco tempo fa è successo un qualcosa qualcosa che non si può prevedere che nessun modello di calcolo ti insegna a prevedere da sintomi che parevano poca cosa attraverso esami visite controlli e passando per tre ospedali diversi ho ricevuto la diagnosi di una malattia rara una di quelle che una farmacista come me conosce bene in tutte le sue conseguenze da quelle più lievi a quelle più gravi non sto più a dettagliare turbine di sensazioni e di emozioni che ho provato in quel maledettissimo giorno così però posso dire che dall'oggi al domani mi sono ritrovata ad essere paziente e farmacista con la mia prospettiva futura ed è questo che chiedo alla politica che il sistema sanitario nazionale continui ad essere efficiente e gratuito che mi dia la speranza che questa malattia possa un giorno essere sconfitta e che mi dia anche la possibilità di scegliere il modo più giusto per me di passare all'altro mondo perché se oggi mi hanno dato questa possibilità di essere qui e di parlare col sorriso davanti a tutti voi io col sorriso vi voglio salutare e col sorriso e la dignità vorrei salutare anche i miei cari quando arriverà il momento grazie a tutti lo voglio dire da qui dalla Casa del Cinema di Roma che ringrazio come prima tappa del tour che faremo lo voglio dire insieme a tante a tanti di noi potete pensare tutto quello che volete di noi non siamo bravi a raccontare le barzellette forse non siamo simpatici forse non siamo belli come ci vorresti ma non mettete in discussione la nostra passione civile perché noi in questi dieci anni abbiamo dimostrato che partendo da un hangar da una stazione da piccole realtà del territorio abbiamo cercato di cambiare questo paese lo abbiamo fatto con tante leggi continueremo a farlo controcorrente e con la capacità di rovesciare la R tornare ad essere dunque rottamatori riformisti responsabili e lo faremo con il coraggio la voglia l'intelligenza di chi sa che la Leopolda non è un luogo di malaffare la Leopolda è il luogo di quelli come Claudia che hanno trovato in quell'esperienza l'occasione poi per candidarsi e oggi per continuare a combattere e come quelli di tanti di noi che alla fine anche se non va di moda credono che la politica sia una cosa un pochino più seria di mettere un like o di mettere o di fare un tweet ecco questi siamo noi a chi in questi anni ha cercato di trasformarci in dei mostri il libro risponde dicendo pensate pure tutto quello che volete di noi non ci toglierete il sorriso non ci toglierete l'entusiasmo e non ci toglierete l'energia per continuare a combattere per un'Italia diversa grazie di cuore a tutte e a tutti e buon lavoro in bocca al lupo grazie a tutti